Noi solitamente scendiamo, ecco siamo scesi e voi state appellando perché il concerto è finito, fate no! Noi siamo scesi, siamo nel nostro backstage tutto di pelo, di tappeti di pelo tipo quelli anni 70, arancioni, con i nostri divani e il nostro freak bar, solitamente, la palla da discoteca che fa questa cosa un po' così, ci mettiamo lì, ci sediamo, ci accendiamo la sigaretta, bocca boia! Eh? Bello questo! Sembra il sottomarino! E' tipo quella cosa verde che fa, il sonar, il sonar, bravissimo il sonar, locale che è lui molto, molto affezionato, locale affezionatissimo che si chiamerà il signor solo, adesso nella prossima stagione cambierà nome e si chiamerà il signor solo. Veniamo in popolo! Cosa succede? Allora noi siamo lì che abbiamo acceso la sigaretta, c'è la sigaretta, fuori sentiamo, uaaaaaah! Sentiamo queste urla, ma noi proprio, cioè siamo delle persone molto urli, ce ne frega assolutamente niente e allora cosa facciamo? Stiamo lì, finiamo proprio la sigaretta, beviamo uno scotch whisky invecchiato 165 anni, che è qualcosa che chiediamo assolutamente e abbiamo sempre trovato delle migliori marche tipo Conad, famosissime marche di whisky sono Conad, D per D e S lunga, S lunga. S lunga hanno anche le bottiglie quelle un po' più grandi. E quindi beviamo tranquilli così, chifumare, e poi uno fa e uno sentito, però quello la, ti sentivi bene? No, io sentivo una merda, proprio uno schifo. Io la voce, la voce non la sentivo mica, i core, i core hanno sentito un cazzo, vaffanculo, così. Succede questo, praticamente, e poi uno fa e però, cioè, beato me è venuta bene, perché non l'abbiamo fatta, beato me. Ah no scusa, buon appetito. Sì, sì, ok. E poi adesso dai saliamo su, dai, poi c'è Rob con la pila che fa, dai lo salite su che la gente se ne sta andata, dopo 20 minuti, il locale è mezzo vuoto, e noi saliamo e facciamo il bis per i pochi rimasti, praticamente, che sono solitamente una diecina. Gente che si conta sulle punte delle dite e delle mani. Quindi stiamo lì, stiamo per risalire su con la pila accesa sugli scalini di questo palco immenso, lasciamo tutto il tappeto di pelo, risaliamo su. Io e lui, perché gli altri stanno facendo le sigarette con le lunghe così, piena di nicotina, proprio solo nicotina. Fanno dei purini di nicotina. Solo nicotina dentro, perché hanno proprio bisogno, c'è proprio un apporto calorico e nutritivo che gli serve per stare in piedi. Poi lui sta seduto e io dico ma perché? Cosa ti serve stare in piedi che stai seduto? Comunque lo prende lo stesso. Quindi saliamo su, io e il signor solo, e eseguiamo, non questo scorreggio qua, ma ma bensì una canzone. Quindi si apre, adesso noi facciamo che noi risaliamo, vi fate un tipo un applauso, come se noi avessimo fatto tutto questo. Grazie.